Quindi entrambi i due brand hanno lo stesso livello di servizi, tante volte ho sentito dire ma Beaches è un livello più basso rispetto a Sundance, assolutamente no, anzi i Beaches offrendo più servizi hanno anche tante volte un prezzo più alto rispetto ai Sundance, proprio perché sono servizi che sono rivolti a un target di clientela più ampio rispetto ai Sundance che invece sono solo per coppie. Il concetto del luxury included è il concetto più importante che identifica i result Sundance and Beaches perché è quello che ci contraddistingue sul mercato rispetto a qualsiasi altro result all inclusive al mondo. Luxury nel senso che include una quantità di servizi che nessun altro risolto all inclusive al mondo include, quindi parliamo di quantità ma anche di qualità di servizi. Quindi tutti i trasferimenti sono inclusi per l'aeroporto, il wifi è incluso non solo nelle aree comuni ma anche nelle camere, questa è una cosa che differenzia i normali diciamo all inclusive. Tutti i ristoranti sono inclusi a prescindere dalla tipologia di camera che si è prenotata, quindi a prescindere dal prezzo pagato tutti i ristoranti sono inclusi e sono alla cart. Quindi non parliamo di ristoranti a buffet, naturalmente in tutti i resort c'è sempre uno o due ristoranti a buffet ma principalmente sono tutti alla cart, quindi con un servizio al tavolo. Quindi questo garantisce anche una maggiore qualità diciamo dell'offerta culinaria. Tutte le bevande sono incluse, quindi alcolici, superalcolici, tutti questi anche questi di marca. Inoltre gli sport, gli sport sia terrestri che acquatici sono inclusi e una cosa che differenzia diciamo i nostri resort dagli altri on inclusive è che anche le immersioni sono inclusi. Quindi per chi è possessore di un brevetto, Padi, può avere due immersioni gratuite al giorno e questo è un valore aggiunto. Oltre alle immersioni anche il golf, ad esempio noi abbiamo appunto tre isole dove abbiamo i campi da golf e il green fee è incluso e questa è un'altra caratteristica che ci differenzia dagli altri all inclusive. Oltre naturalmente a questi, quindi alla parte di ristorazione, a parte degli sport, anche i matrimoni. Noi abbiamo la possibilità di sposarsi gratuitamente nei nostri resort e i matrimoni hanno un valore legale, sono riconosciuti anche in Italia. Quindi questi sono tutti dei valori aggiunti, sono delle caratteristiche che ci contraddistinguono. Anche le mance, ecco le mance è una cosa importante perché sapete in America le mance hanno un peso diciamo sul bilancio economico e anche queste tutto il personale è stato proprio istruito a non chiedere mance. Quindi questo è per farvi capire perché è l'actual included in questo senso, proprio per la quantità di servizi e la qualità. Parlavamo di cucine e naturalmente i ristoranti, la cucina sono un po' il nostro fiorello chiello, abbiamo risolto dove abbiamo fino a 21 ristoranti e soprattutto abbiamo cucine da 60 tipologie di cucine diverse. Quindi un cliente ha la possibilità anche solo in una settimana di provare cucine da tutto il mondo, abbiamo ristoranti da quello italiano, quello francese, quello indiano a quello giapponese, abbiamo il sushi, abbiamo la pizza, abbiamo quello di ristorante greco, ristorante mediterraneo, quello caraibico. Insomma, chi più ne ha più ne metta, c'è veramente di tutto, è veramente un viaggio culinario intorno al mondo e poi c'è una grande attenzione soprattutto all'aspetto delle allergie perché oggigiorno tanti clienti soffrono di allergie quindi noi vi invitiamo quando avete dei clienti che hanno delle problematiche di segnalarcelo, lo segnalate a NAR, poi NAR ci informerà in modo tale che noi avvisiamo già la risolta di questo cliente che ha queste problematiche però poi una volta che arriva giù c'è il culinary desk, quindi che è un desk dedicato dove i clienti avevano la possibilità di parlare direttamente con gli chef e quindi con qualcuno che si occupa di studiare il loro menu per la settimana. Quindi ecco, questo sicuramente è un'attenzione e oggigiorno è molto importante tenerne conto. Come vi dicevo, il matrimonio gratuito. Ecco, il discorso dei matrimoni vi dico solo come avviene, nel senso che prima si deve prenotare la camera, appunto prenotate la camera, dopodiché potete rivolgervi anche direttamente al nostro ufficio per la prenotazione del matrimonio. Noi ci occupiamo di prenotarvi l'orario e il giorno del matrimonio, dopodiché il cliente, cioè o voi o il cliente, vi metterete direttamente in contatto con la wedding planner che seguirà appunto la parte del matrimonio prima dell'arrivo. E poi una volta arrivati in loco c'è anche il wedding planner che poi definisce tutti i dettagli che sono già stati decisi diciamo prima in fase di prenotazione. Per poter avere la cerimonia gratuita è richiesto un prenotamento di minimo tre notti, anche se naturalmente per potersi sposare. Ci vogliono soggiorno più lungo perché non si può arrivare su un'isola e sposarsi il giorno dopo, ci vogliono sempre almeno 48 ore di residence requirement e poi dopo le 48 ore ci si può sposare. Quindi anche qua bisogna un attimino vedere, magari prima di prenotare la camera, se volete verificare con noi la disponibilità del giorno potrebbe aiutare appunto in fase di prenotazione. E non solo Sandas regala il matrimonio gratuito ma offre anche per chi soggiorna almeno sette notti un bonus di 1500 dollari. Questo bonus è importante perché può coprire la spesa delle tasse perché in tutti i Caraibi, tutte le isole hanno delle tasse amministrative quando ci si sposa, però Sandas le copre appunto per coloro che si fermano almeno sette notti. Inoltre il bonus offre anche degli sconti su altri servizi che poi vengono definiti comunque con la wedding planner. Poi naturalmente c'è chi invece è già sposato e ha voglia di fare diciamo il rinnovo delle promesse. Anche questa cerimonia è molto richiesta, molto diffusa, questa ha un costo di 300 dollari, e però per poter fare questo rinnovo delle promesse è indispensabile avere il certificato in italiano e anche la sua traduzione giuridica in inglese. Quindi al momento della richiesta se non si hanno questi documenti è importante verificarlo poi ma perché altrimenti non confermono la cerimonia. Quindi gli unici due documenti che sono richiesti appunto sono questi per il rinnovo delle promesse. Anche qui la procedura è lo stesso, voi prenotate la camera con NAR e poi ci chiamate per vedere la disponibilità del giorno e dell'orario. Allora adesso vediamo le camere che sono diciamo la parte più importante perché la vendita della categoria giusta della camera determina il successo della pratica. Noi tante volte i problemi maggiori che abbiamo per le camere è quando i clienti arrivano e ci rendiamo conto che hanno un'aspettativa diversa rispetto appunto a quello che era stato prospettato. Quindi è importante capire che tipo di cliente si è davanti per poter consigliare la camera giusta. Naturalmente noi non vi aiutiamo perché abbiamo 29 categorie di camera e quindi arriviamo fino a 29 categorie in certi resort per cui non è semplice però ci sono dei piccoli diciamo trucchi per poter agevolare la vendita delle varie categorie di camera. Innanzitutto tenete presente che sono divise in tre gruppi che sono le camere col maggiordomo, le camere butler, abbiamo poi le camere club level o concierge e abbiamo le camere entry level che sono le camere standard. Quindi naturalmente se avete clienti abituati a viaggiare in business, abituati a livelli alti dovete proporgli la camera butler perché poi una volta arrivati giù si rendono conto della differenza del servizio perché il butler è naturalmente l'unico che può bloccare il lettino in spiaggia, che comunque può dare delle personalizzazioni in termini di servizio che nelle altre camere non si ha. Per cui a parte il discorso del room service 24 ore su 24 però il butler può prenotare i ristoranti, può prenotare le escursioni, può portare i pasti in camera, insomma è un servizio molto personalizzato. Per chi magari non ha delle esigenze particolari però piace e sta bene anche le camere concierge sono un'ottima soluzione perché anche queste camere hanno il room service in camera dalle 7.30 fino alle 10 di sera. E poi ci sono le entry level, sulle entry level bisogna stare un pochino attenti a vendere perché in alcuni resort sono camere che non sono state ristrutturate, quindi magari ecco tante volte l'aspettativa alta è lì perché vedono il nome della camera deluxe, si aspettano la suite e invece tante volte è una camera normale e magari appunto anche un po' vecchiotta, dipende un po' dai resort. Comunque su questo il booking di NAR è molto preparato, fanno sempre corsi di aggiornamento quindi se avete dei dubbi potete chiamare tranquillamente loro. Allora, queste vi do alcuni segreti appunto per vendere le camere perché sono dei dettagli importanti. Nei nomi delle camere, che tante volte sono chilometrici, mi rendo conto, però ci sono delle parole chiave che identificano la camera. Se ad esempio in un nome di una camera trovate la parola walkout vuol dire che la camera è al piano terra. Se trovate la parola tranquillity soaking tub, questo è un dettaglio molto importante perché identifica le camere che sono state rinnovate. Quindi i sandals del futuro, vedremo poi anche come Barbados rispetto ai primi sandals sia diverso perché è un'architettura completamente nuova e tutte le camere appunto rinnovate hanno questa dicitura tranquillity soaking tub, cioè la vasca da bagno che piace all'architetto e la mette un po' dovunque. Poi abbiamo le over the water, le abbiamo in Jamaica, San Lucia, abbiamo una sky pool che è appunto qui, è Grenada, questa foto è del sandals di Grenada ed è una camera con una piscina sul terrazzo. Le rondole sono delle camere circolari, delle piccole villette e poi abbiamo le swim up che sono camere con accesso diretto alla piscina. Ecco, questa è un po' l'introduzione. Adesso io faccio una carrellata veloce dei resort così vedete un attimino anche in base alle foto perché ci sono diverse immagini che vi fanno vedere un po' di come lo stile sandals sta cambiando. Barbados iniziamo naturalmente dai due resort più nuovi, gli ultimi nati, quelli che sono proprio, che rappresentano i sandals del futuro. Ci troviamo nella parte sud ovest dell'isola, sulla Maxwell Beach. Questo è il sandals Babedos, aperto nel 2015. Questo resort è l'ex casuarina, quindi è stato ristrutturato su una struttura già preesistente e ha 280 camere. Vedete, allora ecco, le mappe sono molto importanti e che vi fanno vedere come è disposto il resort. Tante volte ci sentiamo dire giustamente, ah ma i sandals sono enormi, delle resort enormi, però attenzione perché in ogni resort, vedete, sono divisi in villaggi. Quindi, e poi col fatto che ci sono tanti ristoranti e tante piscine, non è mai la sensazione della folla. È tutto molto ben distribuito e quindi dalla mappa si riesce a vedere diversi villaggi. Qui vediamo il beachfront, il crystal lagoon, il caribbean, quindi tutti i resort hanno questo concept, diciamo, dei villaggi diversi. La spiaggia, vedete, è molto bella, molto grande, bianca. Il mare dipende dalle giornate, alcune giornate è un pochino più mosso, altre giornate meno mosso, ma ha dei colori molto belli, quindi questo punto spiaggia è molto bello. E la spiaggia è in condivisione con il vicino Royal Babedos. Vedete, queste sono le sui map e questa è la spiaggia. Ecco, il Sandals Royal Babedos invece è stato costruito dal nulla, praticamente proprio guardando il resort sulla destra, abbiamo costruito dal nulla queste 272 camere. È un resort nuovissimo, non ci sono camere standard, sono solo camere dalle club level in su e vedete lo stile come è tutto nuovo. I colori sono più chiari, è tutto molto più fresco, è un design un pochino, forse, diciamo, meno americano rispetto alle prime strutture Sandals. Anche qui, vedete, c'è la mappa che identifica un pochino il resort, questo resort ha solo i blocchi davanti che vedono il mare. Gli altri sono più spostati indietro, ma i giardini sono curatissimi e le camere qui sono molto belle. Qui i problemi di camere non se ne hanno perché veramente sono nuove di zecca. E' stato aperto a dicembre del 2017 questo resort, vedete questa piscina rooftop e qui è anche una location per sposarsi. Questo è diventato appunto una location per i matrimoni, naturalmente con un pagamento, con un costo extra, però è molto suggestivo, molto panoramico. La spiaggia è in condivisione, questa vedete che è una sky pool, vedete che c'è la vasca, quindi è una camera nuova. Ecco, la cosa bella è che questi due resort sono attivi, quindi quando i clienti di uno possono usufruire anche dei servizi dell'altro. Quindi se da una parte ci sono sei ristoranti, dall'altra undici, i clienti hanno a disposizione 17 ristoranti. Così come gli sport, le piscine, insomma tutto, hanno a disposizione i due resort, sia i clienti dell'uno che i clienti dell'altro. Quindi non devono presentare nessuna tessera, nessun braccialetto, niente. Nel momento in cui entrano nel mondo Sundas, sono ospiti Sundas e quindi possono girare tranquillamente nei due resort. Questa è una rondomal con piscina privata. Vedete questo stile molto nuovo. E vediamo poi invece Antigua. Allora Antigua rimane la destinazione numero uno sul mercato italiano, è la destinazione per quanto ci riguarda più amata, come Sundas. Quindi questa è una struttura comunque con una bellissima spiaggia, molto romantico. Anche qua vedete, è sempre diviso in villaggi, abbiamo il Caribbean, il Sunset Laffa e abbiamo il Mediterranean. Quindi anche qua gli italiani tendono sempre un po' a scegliere il Caribbean perché è più vicino alla spiaggia, però anche lì bisogna stare un pochino attenti alle camere perché ci sono le deluxe che sono camere piccole e vecchie. E quindi per un viaggio di nozze bisogna un pochino stare attenti a venderlo. E ci sono però tante possibilità, tante altre tipologie di camere da poter proporre ai vostri ospiti. Quindi vedete qui la spiaggia è molto bella, però appunto l'arredamento è più vecchio, nel senso che questo è il Mediterraneo che comunque è ancora più nuovo del Caribbean, però vedete i colori scuri, questo letto a baldacchino, quindi un arredamento un pochino più pesante. Quindi questo fa la differenza tra le camere ristrutturate nuove e quelle non ristrutturate. Passiamo invece a Bahamas, a Bahamas sapete che abbiamo il resort su due isole, abbiamo uno a Nassau e l'altro a Exuma. Iniziamo con quello di Exuma, il Sundance Emerald Bay, questo è un Expo Season, anche questo resort ha tutte le camere dalle club level in su, non ci sono camere standard. Questa resort ha una spiaggia che è spettacolare, tutte le camere sono vista mare, quindi sia il Beachfront Village che il Beachhouse Village sono tutte vista mare. È un resort molto romantico, che piace molto, è un pochino vecchiotto, nel senso che anche qua le camere non sono proprio nuovissime, però è un resort che piace molto perché è tranquillo e poi dal punto di vista naturalistico direi che è imbattibile il Emerald Bay, vedete la spiaggia è spettacolare. E poi abbiamo il cugino, il Sundance Emerald Bay, che è a Nassau, è famoso per la sua isola privata. Nassau è anche questo, è un resort molto venduto, un po' perché è comodo da Miami e poi è molto conosciuto sul mercato italiano. E poi ha questa cosa appunto che ha quest'isola di fronte, è una nostra isola ed è collegata al nostro resort tramite una barca, un servizio di barca motore a dolari fissi e sull'isola non ci sono camere e poi si può trascorrere la giornata. Ci sono gli sport, ci sono le sdraio, c'è il bar, c'è il ristorante, c'è la spa e anche qua il resort, vedete, è diviso in tre villaggi, la parte dietro il Royal English è stato completamente rinnovato. Camere quindi molto belle, quindi clienti che sono esigenti consiglio il Royal English, anche se è dietro rispetto al mare, però le camere sono bellissime e poi anche i giardini sono molto curati. Quindi ecco, poi ci sono appunto il Balmora e il Windsor, che sono due torri dove appunto le camere sono un pochino più vecchiotte, vedete, vedete lo stile. Ecco, sempre col letto a bardacchino, colori scuri, sti tappeti, insomma niente a che vedere con Barbados, però naturalmente la vista qua è spettacolare, questa motion view. Questa è l'isola privata, che vi dicevo, ecco questa cosa, dell'isola privata piace sempre moltissimo, soprattutto alle coppiette in viaggio di nozze. Allora, Grenada, io vado via veloce perché il tempo è quello che è, però intanto almeno facciamo una carellata. Grenada è una destinazione che noi in Italia vendiamo poco, poco perché naturalmente per chi non è mai stato ai Caraibi si tende un pochino a consigliare isole che hanno sabbie più bianche e mare diciamo più azzurro. Grenada è un'isola vulcanica, quindi la sabbia è un pochino più scura e quindi il mare ha un colore più verde diciamo. Grenada, il risolto è bellissimo perché anche questo è stato aperto a dicembre del 2013, quindi ha già l'impostazione dei nuovi sandals, perché l'architetto è lo stesso, però qui ecco, vedete sempre diviso in villaggi, la spiaggia è un pochino piccolina. Quindi per chi non è mai stato ai Caraibi, naturalmente forse Grenada o va spiegata bene, altrimenti tante volte, ecco noi abbiamo i repeaters qua, quelli che sono già stati magari ad Antigua, le Bahamas, a Turks e poi vogliono provare anche queste isolette qua che sono sicuramente molto belle, vedete lo stile è comunque nuovo. Vedete sempre c'è la Socking Tab, quindi c'è la firma dell'architetto, questa è una rondoval con piscina privata, quindi è sempre uno stile molto elegante. Giamaica naturalmente è casa nostra, voi sapete che la proprietà è giamaicana, siamo presenti in tutta l'isola, siamo ad Ocio Rios, a Montigo, a Negrile e poi nella parte bassa sud-oveste nella zona di White House. In Italia Ocio Rios è venduto poco perché le spiagge sono piccole, però parlando poi di risolto vi dirò perché poi è venduto, perché appunto c'è il campo da golf, quindi per i golfisti va benissimo Ocio Rios. In questo caso iniziamo con Montigo Bay, quello che vedete è stata la prima acquisizione del gruppo nel 1981, la spiaggia è molto bella, il risolto è stato tutto completamente ristrutturato, quindi il risolto è nuovissimo, però ecco va detto questo risolto è attaccato all'aeroporto, dietro quelle casette e i tetti rossi vedete una pista, è la pista dell'aeroporto, quindi questo bisogna dirlo ai clienti, voi non ne immaginerete mai, ma questo è quello che ha il più alto numero di repeaters, questo risolto, piace moltissimo e naturalmente poi hai conto, nel senso che il pro è che è completamente rinnovato e che hai 5 minuti di transfer, però ecco appunto ci sono questi errori che si sentono durante la giornata, non sono tantissimi, però si sentono. Ad ogni modo vedete lo stile è molto bello e piace molto perché la spiaggia è bianca e soprattutto perché si sviluppa in senso orizzontale rispetto alla spiaggia, quindi anche i ristoranti sono un po' tutti sulla spiaggia, insomma molto a contatto con il nostro habitat, perché noi italiani amiamo tanto la spiaggia. Vicino a 10 minuti dal Sandas Montigo c'è il Royal, il Sandas Royal Caribbean, questo è un risolto che è stato in parte ristrutturato, non tutto, ci sono dei blocchi che sono ancora vecchi, quindi qua attenzione a vendere delle camere, verificate con Nara se le camere poi sono state rinnovate o meno, perché fa la differenza. Anche qua abbiamo un'isoletta privata di nostra proprietà con un ristorante thailandese ed è collegata a queste, diciamo alle Over the Water, che sono i 12 bungalow, i 5 suite di Over the Water, che sono appunto camere molto lussuose con servizio di maggiordomo. Le spiagge qua è carine, non sono grandissime, però il mare è molto bello, trasparente e sono formati un po' a calette. Queste sono le nostre famosissime Over the Water a forma di cuore e queste appunto vedete le camere, lo stile hanno la loro piscina, hanno la loro vasca, hanno il pavimento a fondo di vetro, insomma sono molto lussuose, sono dei mini appartamenti diciamo. Passiamo poi a Negril, che è un po' la destinazione più venduta diciamo in Giamaica come località. Il Sundas Negril, anche questo è uno dei primi resort della proprietà, è stato anche questo quasi tutto ristrutturato, non tutto, ci sono delle camere Butler che sono ancora vecchie e anche quelle appunto bisogna stare attenti a venderle. Però il resort è molto carino, diciamo che per noi è piccolino perché ha solo 220 camere, noi siamo abituati a numeri più alti, però anche qua appunto tutta la parte del Millionaire Suite, il Caribbean Beach Front e il Paradise è stato tutto ristrutturato. La parte invece dell'altra parte, l'Onemoo Beach Front Village, lì ci sono delle camere che sono ancora vecchie, quindi anche qua bisogna fare un attimino attenzione. Però è molto romantico, molto bello, va detto che qua la spiaggia non è grandissima, quindi se vi chiedono a Mannegrila è meglio il Sundas o meglio il Beaches e si riferiscono alla spiaggia, ma per quanto riguarda la spiaggia è meglio il Beaches perché è più grande la spiaggia del Beaches, quella del Sundas è più stretta, diciamo. Per esempio una spiaggia bianca, bella, queste vedete sono camere rinnovate con due piani e qui c'è il Maggiordomo che porta. E qua passiamo al South Coast, questo resort è un resort situato a sud ovest dell'isola, è un resort molto bello, anche qua ci sono le 12, vedete i 12, bungalow over the water, la spiaggia è molto bella, il mare non sempre è limpido, è chiaro, però i clienti ci sorprendono sempre perché abbiamo avuto un cliente adesso a Capodanno che è scappato da Negril, è andato al South Coast, si è innamorato del South Coast e l'anno prossimo vuole tornare al South Coast, anche se il mare è più bello quello di Negril, per cui dipende un pochino da cosa cerca un cliente, naturalmente qua è molto più ampio, nel senso il resort è molto più disteso, le camere sono tutte di stamare, questo è all'interno di una over the water, quindi col fondo di vetro, la spiaggia è molto bella, vedete queste sono le camere interne, questa è l'Italian Village che è stato ristrutturato, c'è il bar over the water, quindi per andare a godersi il tramonto si può andare in questo bar, vedete ci sono le amache, in parte ci si può sdreare sulle amache e sull'acqua, quindi il latitude, è stata costruita anche una cappella over the water, location che però è più richiesta dagli americani, perché agli italiani piace sposarci con i piedi nudi nella sabbia. Ecco qua abbiamo, dicevo, Ocho Rios, Ocho Rios abbiamo due sandals, abbiamo il Royal Plantation e abbiamo l'Ocho Beach. Allora, il Royal Plantation è una struttura di sole camere Butler, spiagge piccoline, molto piccoline, una struttura un po' vecchiotta, sono appunto una settantina di camere tutte Butler, questa struttura non la vendiamo praticamente per niente in Italia, vedete che è lo stile un po' vecchio, andiamo avanti, invece l'Ocho Beach è una buona alternativa, è un risolto molto grande, però per chi va a giocare a golf, abbiamo un campo da golf a 18 buche, a poca distanza, diamo anche il servizio di navetta gratuito, c'è la possibilità appunto di soggiornare qua, poi in tutti i nostri esalti lato c'è la spa, e quindi per le mogli possono stare nella spa e i mariti possono andare a giocare a golf. Io vado abbastanza veloce. Allora, se l'Ush, anche questa è una destinazione un po' che si diversifica dalle solite destinazioni, destinazione molto bella, isola vulcanica, mare verde, sabbia un pochino più scura. Abbiamo tre resort e sapete che quando nella stessa località si hanno più di un resort a Sundance, i clienti possono soffrire dei servizi di tutti i resort con un servizio di navetta gratuito. Tre resort, io mi soffermo su quello che è più venduto sul mercato, che non è questo che vedete, questo è Regisilatoc, molto bello, ma gli italiani preferiscono il Grand Salluscia, che è questo, con doppia esposizione, c'è la spiaggia da una parte e la spiaggia anche dall'altra, circa 300 camere, spiaggia molto bella, mare verde, ma molto trasparente, bello, questo è veramente un bel resort che piace molto, anche il servizio è ottimo, loro sono molto cordiali, diciamo il popolo di Salluscia. E questo, vedete, quindi spiaggia, anche qua abbiamo le camere Rondoval, qui non ci sono camere nuove, però non abbiamo problemi anche con le camere, diciamo, di livello un pochino più basso. Vedete, questa è la spiaggia, e queste sono, abbiamo nove bungalow over the water, più belli visti dal vivo che in foto, però vedete le camere all'interno sono sempre molto belle. E poi l'ultimo è Lension, più piccolino, tutto completamente rinnovato questo, però qua, vedete, è tutto rinnovato, bellissimo, ma la spiaggia non va bene per i nostri clienti, nel senso che non ci sono i colori che uno si aspetta quando va ai Caraibi. Però ecco, i clienti hanno la possibilità, comunque, volendo di passare anche la giornata all'Ession. Quindi adesso, 13.35, immagino che ho gli ultimi 5 minuti, parliamo velocemente del Beaches, noi, come sapete, ne abbiamo tre, abbiamo il Beaches di Turks, il Beaches di Negrille, il Beaches di Ocho Eos, naturalmente quello più venduto è sempre stato il Beaches di Turks, seguito da quello di Negrille, quindi io vi spiego uno e poi il concetto vale per tutti. Cos'è la bellezza dei Beaches? Il fatto che comunque offrono servizi per ogni fascia di età, quindi hanno servizi per i bambini dagli 0 e 2, dai 2 e 4, dai 4 e 6, da 6 e 8, cioè ci sono attività dedicate in base alle diverse fasce d'età e per quelli più grandicelli fanno corsi di DJ, c'è la discoteca, il Liquid, fanno delle attività legate a quelli anche più grandi, altrimenti ci sono, fanno i lavoretti, fanno le cacce al tesoro, fanno le parate con i Sesame Street, che sono questi personaggi tipo Muppets Show, e poi c'è il mitico parco dei pirati, che ha 11 scivoli, è un parco acquatico stupendo, dove i bambini e anche gli adulti si divertono moltissimo. Qui abbiamo fino a 21 ristoranti, immaginatevi voi, una persona, c'è dei clienti che fanno una settimana, non riescono neanche a provarli tutti. C'è un servizio di babysitter sempre incluso, dalle 9 del mattino fino al pomeriggio, poi se la sera qualcuno vuole la babysitter privata, costa molto poco, sono 20 dollari all'ora, una cosa del genere, e possono avere anche la babysitter privata, che va in camera e tiene i bambini se sono un pochino più piccoli, così per dare spazio ai genitori di godersi la serata. Quindi questo resort naturalmente è famosissimo un po' per la posizione Grace Bay, è una spiaggia spettacolare, ed è diviso in villaggi, come tutti, vedete che abbiamo il Seaside, il Caribbean, il French, e abbiamo poi l'Italian e il Key West. Ora, gli italiani hanno sempre preferito il Caribbean, però il Caribbean ha le camere, quelle base, base, che sono vecchie. Attenzione, con quello che pagano, andando al Bicis, tante volte i clienti giustamente si aspetta tanto, e va bene, perché i servizi sono veramente tantissimi, il problema è che nelle camere base, con la tenda della doccia di plastica, allora, può creare dei problemi. Quindi, il mio consiglio sempre è di stare su categorie un pochino più alte, e poi, ecco, sappiate che al Seaside hanno rinnovato delle camere che sono molto belle, il Seaside piace, perché è vicino alla spiaggia, e queste camere rinnovate sono sicuramente meglio di camere, diciamo, tipo le deluxe, le camere base. Altrimenti, dietro abbiamo il French Village, che è molto carino, molto tranquillo, come villaggio, anche questo può andare bene, per chi magari ha un budget un pochino più basso, e invece l'Italian è quello davanti, è quello dove c'è più confusione, c'è la piscina principale, e qui ci sono appunto i bambini, che si chiamassero, insomma, se uno vuole un po' di tranquillità, meglio stare un pochino lontano dall'Italian, il Key West può essere un'ottima alternativa, questo è l'ex veranda, anche questo è abbastanza nuovo, nel senso che è quello più nuovo, è quello, è l'ultimo, diciamo, villaggio che è stato aggiunto al Beach Street Turks, e qua le camere sono tutte dalle club level in su, non ci sono camere entry level. Spiagge, mare spettacolari, proprio trasparente, il mare bellissimo, vedete, questo è l'Italian, quello che vi dicevo, l'Italian agli italiani non piace, perché è molto americano, questi building molto grandi, poi soprattutto, se qualcuno prende delle camere, walk out, quindi piano terra, in questa area, è molto disturbato, quindi meglio evitare, diciamo, o stare sui piani alti, il Key West sicuramente è una zona molto tranquilla, che va benissimo, se avete una coppia in viaggio di nozio, il Key West va benissimo come area, e poi c'è il French, che vi dicevo, molto carino, molto tranquillo, l'unica cosa che vi segnalo, occhio, perché i balconi sono la francese, quindi non hanno in realtà i balconi, le camere, perché il balconio e la francese hanno la ringhiera, praticamente, che fa con la finestra, quindi qui, se qualcuno vuole appunto prenotare il French, avere uno spazio fuori, consigliamo le walk out, che sono le camere al piano terra, che quantomeno hanno il patio, vedete, questa è una delle camere rinnovate all'Italian, alla Seaside Village, che è molto bella questa S1, allora, il Beaches and Grill ha lo stesso concetto del Beaches di Torx, diviso in villaggi, i servizi offerti sono esattamente gli stessi, tutto incluso, quindi anche qua col palco dei pirati, la spiaggia anche al Beaches and Grill è molto bella, è solo che è più piccolo, naturalmente questo non raggiunge le 200 camere, quello di Torx arriva a quasi 800 camere, le camere dentro, alcune sono rinnovate, ma è stato un soft, è stato un soft renovation, infatti vedete che non c'è la vasca, non c'è la soaking tub, però sono camere gradevoli, vedete, c'è la possibilità di avere camere con un ambiente solo, camere con più ambienti, per i genitori che non vogliono dormire con i figli, e poi niente, il Beaches di Ocho Rios invece non lo vendiamo, però sappiate che c'è, non lo vendiamo semplicemente perché appunto la località non è così famosa, e la spiaggia è piccolina, comunque le spiagge di Ocho Rios, io penso di essere stata nei tempi Paolo, sulle 13.40 avrei finito la mia presentazione, se ci sono domande? Sì, se ci sono domande invito i colleghi a scriverle brevemente in fondo sulla chat, e poi passiamo la parola a Corrado per la parte Stati Uniti. Niente domande, sono tutti preparatissimi, non ho dubbi su questo. Ebbè, è stata molto chiara del resto. Se vogliamo stare nei tempi non troppo dilatati possiamo passare alla parte Stati Uniti. Io ringrazio ancora Paola che ci segue su queste iniziative e su molte altre anche fuori dall'ufficio per incontrarci di persona. e spero che ci risentiamo presto per un altro appuntamento insieme. Grazie Paola, di nuovo. Grazie Paolo, grazie Corrado, e buon pomeriggio a tutti. Grazie mille. Di nuovo, grazie. Ciao. ok ragazzi adesso passo la parola a corrado il nostro direttore operativo sulla parte stati uniti io vi ringrazio ancora e ci sentiamo alla prossima grazie buongiorno a tutti aspettate che mi sistemo le cuffie ben ritrovati benvenuti anche da parte mia non è il primo appuntamento che faccio come ben sapete e colgo l'occasione intanto di ringraziare paola è veramente un partner assolutamente importante per il nostro tour operator e non so paolo sei già ricordato ma ripetita juvent vi ricordo che siamo l'unico tour operator collegato con il database ok che l'unica cosa è stato immediatamente ricordato un piccolo dettaglio siccome lavoriamo sulla disponibilità a fronte delle date richieste noi andiamo ad offrire tendenzialmente a meno di una specifica richiesta di una specifica tipologia di camera lo starting price lo starting price quindi la camera con il miglior prezzo disponibile può capitare che chi ancora fa il caricamento delle tariffe manuali nel proprio sistema e quindi inserisce i contratti quindi senza check di disponibilità possa offrire non la prima camera disponibile al miglior prezzo ma la prima lo starting price in assoluto quindi i nostri preventivi vi ricordo che sono sempre più efficaci dal punto di vista della disponibilità e state sempre bene attenti alla concorrenza che può magari mettervi una camera che costa di meno ma che in effetti su quelle date lì non è disponibile allora abbiamo visto tutto questo ben di dio tutto questo ben di dio di di paolo allora dicevo abbiamo visto tutto questo bel mondo di sandals and beaches e adesso come sempre accade andiamo ad illustrare un territorio un itinerario perché nella maggioranza dei casi i nostri viaggi sono sempre composti da un pre tendenzialmente fly and drive vista di città e poi la famosa settimana al mare a cui gli italiani non rinunciano mai soprattutto in segmento viaggi di nozze quale itinerario affrontiamo oggi bene è un paio di anni che cerchiamo di allargare i nostri orizzonti per uscire un po dai canonici itinerari che poi costituiscono nella quotidianità l'asse centrale delle nostre vendite ma riteniamo che a parte che la nazione è enorme ci siano territori che piano piano con tutta la pazienza del mondo debbano essere assolutamente portati alla luce dei nostri clienti perché fin quando non glieli raccontiamo sicuramente non instilleremo mai quella curiosità per dire vabbè questa volta guardo seguo anche l'indicazione della gente è un lavoro che stiamo sviluppando con brand usa che vi ricordo essere il vero istituto diciamo ufficio di sviluppo del turismo usa e all'estero che proprio come motto a beyond the gates cioè di andare un po oltre i luoghi considerati iconici e di portare alla ribalta nuove idee nuovi itinerari in questo caso affrontiamo un itinerario che non è più neanche così sconosciuto ai più anzi negli ultimo bienio triennio forse anche grazie al lavoro paziente che stiamo facendo tutti noi tour operator e anche voi agenti di viaggio comincia a venire fuori nelle richieste l'altro grande territorio su cui ci stiamo concentrando insieme a brand di esei che merita sicuramente altrettanta attenzione è tutto quell'enorme mondo di stati che si sviluppa per farla in breve a nord di denver quindi wyoming south e nord dacota montana idaho washington state oregon quindi è un'altra latitudine che ci interessa molto in questo caso andiamo ad affrontare questa grande itinerario sono circa 2100 chilometri con fatto tutto in questa presentazione però ometterò una parte dell'itinerario per concentrarci su anche per limiti di tempo su chicago che ancora secondo noi è una città poco valutata dal mercato e secondo noi molto 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 bella molto vivibile e poi di questo itinerario andremo a un po' focalizzarci su tutto quello che succede da nashville fino a new orleans perché questo anche perché il tema che corre quest'anno che ricorre anche quest'anno nel nei moti nelle immagini nelle nella diciamo nel lavoro che sta facendo brand usa è ancora una volta il tema musicale e sicuramente chicago nashville memphis root 61 e new orleans ci raccontano tantissimo di musica ma non solo perché in questo progetto rientrano anche gli altri stati del travel south i cosiddetti dodici stati e qua in questo itinerario ne affrontiamo cinque ma gli stati del travel south sono dodici quindi dalla virginia fino alla louisiana comprendendo anche north south carolina georgia e vi dicendo dove assolutamente bisogna che noi allarghiamo un po il campo delle nostre conoscenze perché è un altro territorio veramente molto intrigante e andiamo a vederlo questo territorio questo è l'intero percorso da chicago a new orleans dicevo 2100 chilometri circa percorrendo delle strade panoramiche fondamentalmente quattro grandi strade si intersecano in questo in questo itinerario da chicago a saint louis missouri percorriamo il primo tratto della route 66 e poi diciamo nella la sua globalità le tre grandi strade panoramiche e qui un inciso sempre che faccio e chi mi sente da più volte ormai sta diventando un mantra vi ricordo che il bello del nostro andare per gli stati uniti è frequentare le strade panoramiche per cui come dico sempre un ritorno alla buona vecchia cartina detto che il navigatore è fondamentale quando mi approccio al centro cittadino e devo trovare l'albergo ma il ritorno alla buona vecchia cartina è fondamentale quindi un po di informazione perché per il lung per il numero di limitato di notti che ci sono concesse o la strada da un punto all'altro diventa significativa oppure se la faccio sempre sulle freeways mi perdo mi perdo gran parte della bellezza di queste strade quindi in questo caso oltre alla route 66 scusatemi noi qui incontreremo la great river road che segue tutto il percorso del mississippi addirittura dal minnesota fino alla louisiana e la mitica highway 61 route 61 come si vuol dire che è anche definita mississippi blues trail quindi ci porta sulle strade del blues americano e molto panoramica antico sentiero dei nativi americani nell'area che conduce da natchez nel mississippi fino a nashville nella louisiana che è l'ultima parte del nostro itinerario la natchez trace parkway dicevamo che in questo caso non ci occupiamo della prima parte e facciamo invece un rapido punto della situazione su una città che ci piace molto e che vorrei che fosse sempre di più vorremmo fosse sempre di più scoperta e chicago questo è un un'immagine dell'ohari airport perché la mettiamo perché è un hub significativo anche per raggiungere altre città degli stati uniti chicago è un main airport ci arrivano tutti tutte le compagnie europee tutte le alleanze le tre grandi alleanze che fondamentalmente usiamo per i nostri itinerari quindi diciamo sky team joint venture nord atlantico all'italia klm delta af star alliance joint venture nord atlantico quindi lufthansa e tutto il mondo compresa la united air canada quindi swiss austrian e poi la grande alleanza one world con american airlines british airways e iberia ok quindi chicago airport anche per raggiungere altre latitudini un aeroporto decisamente importante e questo è la skyline di chicago siamo sul lago michigan uno dei grandi laghi in mezzo al lago michigan c'è il confine con il canada questo cosa ci dice che d'inverno è una città molto fredda è chiamata windy city chicago d'inverno molto fredda perché le perturbe che nascono in area artica quindi appena sopra il canada arrivano a chicago in un batter d'occhio perché non ci sono montagne di mezzo questa 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 cosa si trasforma in un'estate continentale molto calda ma fortunatamente sempre con questa brezza che appunto dà il nome poi il nominio il nickname alla città windy city la città ventosa da chicago r airport si attraversa la gold coast questo è un centro in downtown di chicago che dal punto di vista alberghiero e dal punto di vista di quello che noi dobbiamo vedere parlando di icone di chicago si sviluppa in un percorso che diventa praticamente pedonale ovvero in quello che è la grande arteria che è michigan avenue quindi io da chicago costeggio la gold coast che è un quartiere residenziale molto molto ambito dai dagli abitanti del luogo qui c'è la casa anche michelle e barack e quindi tutta la borghesia di chicago per raggiungere poi il il centro della città quindi questa grande arteria che è michigan avenue che è divisa in due dal michigan bridge e che adesso andremo a vedere e che ci consente di godere della città praticamente a piedi e tutti gli alberghi dalla turistica fino ai five star deluxe sono poi concentrati in questa zona e chicago rispetto ad altre città americane new york san francisco boston ha un rapporto qualità prezzo decisamente interessante un po come washington questa è la skyline di chicago presa dal navy pier che incontreremo nel nostro escursus perché è un punto di partenza di un'escursione che vi consiglio molto e che adesso riprenderemo perché essendo la la città un emblema mondiale dell'architettura moderna c'è questa bellissima escursione ed essendo una città di canali come vedremo dopo c'è questa bellissima escursione che ci conduce nel centro del lago michigan e poi entra nei canali e così potete avere una prospettiva interessante della città anche dal punto di vista del punto di vista del di un'altra prospettiva andiamo avanti dicevo che una delle ragioni per cui si visita questa città e per cui anche noi di nara puntualmente ogni anno facciamo un mini gruppetto di architetti è perché qui troviamo uno delle massime espressioni mondiali direi dell'architettura e del suo sviluppo perché questo edificio che vi faccio vedere che opera di frank lloyd wright è un edificio degli anni 50 60 perché cosa succede succede che dopo un devastante incendio della città alcuni grandi magnati di chicago decidono di fare questa rivoluzione quindi invitano in città i più grandi architetti dell'epoca capitanati da frank lloyd wright che tra l'altro è di di dell'illinois quindi di chicago e dello stato e inizia questa corsa questa gara tra i grandi magnati della città a costruire palazzi innovativi interessanti per l'epoca e che oggi questa tradizione continua in alcune immagini che vedremo dopo questi palazzi fanno sì che questa città sia praticamente un action movie quindi un set cinematografico a cielo aperto e infatti vedremo che è stato ed è tuttora un set cinematografico molto importante e invece entriamo in quello che è la chicago di oggi quindi dicevo questa grande arteria che è michigan avenue è divisa in due da un ponte la parte nord del magnifique mile e qui abbiamo un esempio del barbari building il magnifique mile sta a chicago come le grandi vie dello shopping cittadino stanno alle grandi capitali europei quindi qua ci sono tutte le marche mondiali della fashion e del design e quindi è una grande via commerciale e qui c'è una grande concentrazione di alberghi questo è il ponte che ti dicevo separa la parte nord di michigan avenue appunto municipio e qui ad esempio vedete ve lo sto facendo vedere col cursore la barchina del architecture tour fatto dai canali di cui vi parlavo prima e divide il magnifique mile da quella che è invece la parte sud del del della città del michigan di michigan avenue che è denominata del loop e qui abbiamo eh su un percorso di circa tre chilometri poco più eh un esempio costante continuativo di opere d'arte di architettura e soprattutto grazie a una legge della città eh fortemente voluta intorno alla fine degli anni settanta ehm hanno adibito una parte del loop che è oggi chiamato millennium park ehm ha la presenza di opere di grandi artisti che eh costellano questo percorso che poi ha fatto di parchi di verde pubblico con delle grandi opere d'arte e adesso ne vedremo qualcuna qui ancora architettura moderna qui eh la la l'union carbide building che oggi è il san jane chicago hotel eh che è ancora una volta l'impresa anni sessanta di un magnate che è quello che si era inventato le chewing gum sperment ok e questo è uno degli esempi di opere d'arte che incontrerete lungo il millennium park questo è un Picasso si chiama untitled senza titolo e sono a vostra disposizione per delle bellissime fotografie questo forse è l'opera all'installazione più famosa del millennium park più famosa perché si fanno queste fotografie interessante perché a seconda della luce del giorno lo skyline della città viene eh modificato appunto dalla luce del giorno questo è eh The Cloud Gate ufficialmente è un'opera di un artista che si chiama Anish Kapoor per tutti è The Bean il fagiolo eh andiamo avanti rapidamente ancora un'installazione giochi acquatici dentro il millennium park e qui la Willis Tower o Sears Tower fino agli anni ottante è stato il grattacielo più grande del mondo oggi compete in città anche con un altro attore che è la Jen Hancock Tower e perché ve lo citiamo perché su Willis Tower e John Hancock Tower ci sono due degli skydeck cioè questi due stanno a Chicago come Top of the Rock o 9-11 eh Skybridge eh sta a New York da cui potete prendere le più belle fotografie panoramiche della città questa è la Willis che vi ricordo essere inclusa nel City Pass quindi voi sarete sospesi al centotreesimo piano al centotreesimo piano eh della scusatemi è successo qualcosa perdonatemi ok sarete sospesi come vedete in questa immagine al centotresimo piano su una una questa ehm lastra di vetro che è spessa quattro centimetri e che vi fa stare a strappombo sul vuoto e questa invece è la Jogan Hancock Tower anche qui trecentocinque metri al novantatresimo piano troverete invece un altro skydeck diverso da quello della Willis qui vi attaccate a una barra d'acciaio e la parete si piega e vi mette a sospeso sul vuoto e quindi anche qui potete godere di una Chicago veramente interessante eh il City Pass è un'arma sempre vincente ragazzi se ci si ferma e e avete davanti i clienti che faranno parecchi ingressi perché dopo due tre attrazioni il risparmio sostanziale c'è il famoso salta coda ma questo non esclude che ci possano essere delle code perché sono sempre di più le persone che comprano il City Pass o i vari Explorer Pass Go Card comunque si chiamano nelle varie città Art Institute of Chicago ve lo cito perché è una delle principali per chi ama l'arte in assoluto è una delle eh delle dei dei masterpiece della città perché un uno eh un un museo con una raccolta anche eh di di dipinti di grandi artisti eh europei veramente eh importante eh dicevamo un set a cielo aperto Union Station è la famosa ultima scena di Untouchables quella della scalinata ed è ancora oggi visitabile perché c'è ancora essendo inserita nella nella ehm eh diciamo nella stazione di Union che ancora oggi c'è a Chicago ehm e poi due cose sempre la cucina e la musica in questo caso vi faccio vedere Deep Dish Pizza ehm è una pizza famosissima a a Chicago eh una eh si si va hanno pensato di inventare tutto loro per noi italiano è ancora una una cosa particolare tuttavia è giusto per perché a storia è una pizza multistrato come vedete in cui c'è dentro l'ira di Dio eh nata nel 43 si può mangiare ancora oggi da pizza uno come dice la 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 il nome della pizzeria eh chiaramente il i proprietari sono di origine italiana l'altro grande l'altro grande must di Chicago è il Chicago hot dog che ha una sua specificità e vi cito un locale che si chiama Portillos Portillos eh dove dove ehm voi potete mangiare questo famosissimo Chicago hot dogs e poi il blues di Chicago che è un blues diverso da quello del sud graffiante eh tutti i migliori tutti i migliori locali di blues sono concentrati in questo quartiere che si chiama River North che ancora una volta è a walking distance quindi distanza pedonabile dal dal Michigan Avenue quindi anche la vita serale è facilitata perché è tutto lì nei dintorni questo è Buddy Guys Legend forse il locale più famoso in assoluto lui è Buddy Guys è un artista di più di novant'anni che suona ancora non con la frequenza di prima ma suona ancora io vi ricordo anche Rosas eh Rosas Lounge eh forse meno anzi sicuramente meno turistico non è molto lontano dal Buddy Guys Legend che è vicino alla Jock Henco Towers quindi sempre nel quartiere di River North questo è il pezzo di cui non ci occuperemo è il primo è il primo pezzo della Route 66 qui avvengono molte cose soprattutto in tema culturale perché si si passa la città di Abramo Nilton di Abramo Lincoln scusatemi come che è Springfield di Linoise quindi col tema tutto il tema della delle di Abramo e Lincoln e siamo sul primo pezzo della Route 66 ma noi oggi vediamo quello che succede da Nashville in avanti perché ci interessa molto il tema musicale ora siamo a Nashville da Chicago se volete evitare quindi volete fare solo Chicago più Nashville o Chicago più Mississippi Blues Trail perché qui entriamo decisamente nella strada musicale e non solo nel profondo sud degli Stati Uniti qua siamo nel Tennessee potete prendere un comodissimo volo diretto da Chicago area Nashville International Airport sono poco più di due ore di volo e la cosa è fatta e quindi vi risparmiate chilometri che magari in questo caso non volete fare quindi guadagniamo tempo su questa parte interessante degli Stati Uniti va bene è la madre della country music non c'è storia qui come poi vedremo a Memphis tutto quello che ha riferito alla musica popolare degli Stati Uniti ha avuto i suoi esordi i suoi sviluppi qui hanno suonati e praticamente a queste latitudini sono nati tutti i più grandi artisti della della storia della country music che sapete è un fenomeno popolarissimo in Nord America con tutto quello che gli va dietro quindi qua ritorneremo a vedere un abbigliamento tipicamente country anche da parte dei manager grandi usi di cappelli stiamo cominciando a entrare in questa America che non è l'America frenetica degli stati produttivi ok è un'America molto lenta che più si scende a sud più ci dà l'impressione che si sia anche un po fermata a me piacciono sempre le immagini musicali un po più avanti entreremo nel anche perché qui tra l'altro la filmografia si spreca giusto per darvi un esempio di quello che vedremo un po più avanti i pomodori verdifriti la fermata del tram è un po quel tipo di America lì anche per il barbecue perché qui entriamo nel tempio mondiale del barbecue Nashville è la madre la country music capitale mondiale della country music tutte le città nord americane ha una una strada di elezioni nel caso di di Nashville e Broadway succede tutto lì tutti i grandi musei tutti i locali e alcuni alberghi sono tutti concentrati in un uno spazio veramente piccolo questa città è purtroppo abbastanza onerosa ma io penso insieme a un unico altro quartiere che vi farò vedere dopo che per godere appieno qua dobbiamo metterci un po di soldini e stare nelle vicinanze quanto più possibile di Broadway perché poi possiamo fare tutto a piedi l'altro quartiere dove c'è un buon insediamento alberghiero tra l'altro vedete che il Mississippi costeggia tutto il nostro percorso vedete su questa cartina vedete dov'è la Broadway ai bordi della Broadway è nato questo The Gulch che è un altro quartiere dove c'è un buon insediamento alberghiero e quindi può essere eventualmente un'alternativa al fatto di stare a Broadway e perché andiamo qua qua c'è un'immagine di una delle icone della country music che è Dolly Parton andiamo qua perché ci sono appunto tutto quello che possiamo scoprire da esperti semi esperti su questo fantastico mondo country music hall of fame è la hall of fame della country music cimegli storia vedete che l'edificio è una tastiera di pianoforte se notate quindi tutto qui dentro ci darà una eh una immagine chiara di quello che è stato eh eh per questi territori eh la musica che è strettamente strettamente connessa alle battaglie dei diritti civili quindi non si può parlare di musica in modo disgiunto da tutto quello che è avvenuto dalla guerra di secessione in avanti in questi territori ehm andando avanti qui c'è un esempio Johnny Cash uno dei grandi maestri della musica countries e il museo a lui dedicato questo ancora un'immagine del Johnny Cash Museum e poi due grandi auditorium il primo è Ryman auditorium per farvi capire come è scritto nella slide è chiamato the mother church of the country music qui hanno suonato tutti i più grandi artisti e ancora oggi naturalmente e siete invitati a farlo che vi piaccia non vi piaccia la country music perché poi è il pubblico ad esempio uno spettacolo all'interno dello spettacolo ci sono tutte le sere praticamente se non tutte le sere una sera sì una sera no dei concerti di country e questo è l'altro grande auditorium grande anche qui hanno suonato tutti i grandi e non solo tutti i grandi della musica country ma anche i grandi della musica rock ci hanno tenuto ad avere l'approvazione di questo pubblico che è il pubblico più esperto in assoluto di queste tipologie di musica il barbecue questa è una fotografia di Broadway alla sera ok e la cucina entriamo nel profondo sud per cui cambiamo c'è un melting pot i francesi che sono stati 300 anni in Louisiana la cultura afro americana ha creato questo grandi melting pot che si trasmette anche nella cucina sicuramente il barbecue la fa da padrone bellissime terrazze con vista sul Mississippi River questo è quello che vi dicevo prima è l'abbigliamento che dovrete per forza indossare a indossare a Nashville e questo è la Broadway la sera con gli onky tonky bar quindi entrati in uno uscite dall'altro in modo continuativo qui non c'è nessuno ma la sera fate fatica a passeggiare e alcuni locali Sattler Saloon e 200 chilometri separano poi la andiamo veloci ragazzi perché la mia intenzione è un po' di incuriosirvi perché so che dovete rientrare alle vostre scrivanie quindi voglio fare un escursus rapido per darvi poi il tempo anche di fare un attimo di pausa ci sarà modo di approfondire 200 poco più e la prossima tappa è Memphis se Nashville è la patria mondiale della country music Memphis è la patria mondiale del rock and soul qui veramente magari a Nashville qualcuno è scappato perché non era un grande esperto di country music o non era un grande artista di country music qui invece hanno suonati tutti quindi da Elvis Presley che qui incide la stragrande maggioranza nasce poco più a sud e incide la stragrande maggioranza dei suoi dischi fino all'altro giorno Coldplay che ci hanno tenuto a registrare a Sun Studios se Broadway è la via dei locali è il centro del culto di Nashville Bill Street è il centro di culto di Memphis ma non partiamo dalla musica la stretta connessione tra diritti civili e musica la prima cosa che vi voglio ricordare è Loren Motel qui nel 68 viene ucciso Martin Luther King la Martin Luther King Foundation che cosa fa compra sia Loren Motel e anche l'edificio antistante Loren Motel da cui è partito il colpo che ha ucciso Martin Luther King e li lascia assolutamente intatti quindi avrete la possibilità di vedere sia la camera da letto si può vedere solo dall'esterno esattamente come era nel 68 come è stata lasciata in quella tragica mattinata in quella tragica giornata scusate sia che la sala del killer che ha ucciso Martin Luther King che anche lui nell'edificio antistante è stata praticamente lasciata intatta è una visita molto molto emozionante ma poi la musica Sun Studios vedete questo baracchino questo piccolo edificio ok questo ha segnato la storia della musica qui incide il suo primo disco il primo contratto Elvis Presley e dopo di lui tutti tutti hanno suonato recentemente U2 ancora prima Rolling Stones Coldplay ok quindi Sun Studios per gli amanti della 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 musica è una tappa fondamentale questi come vedete sono gli ambienti anni 60 70 che ci raccontano la storia Stax Museum se di là si parla di rock and blues qui si parla di soul quindi qua Otis Redding James Brown tutti i grandi del soul hanno inciso e suonato allo Stax che oggi è diventato chiaramente un museo e poi Graceland un po fuori dal centro cittadino troviamo la casa museo di Elvis Presley qui ha abitato fino alla sua morte nel 77 all'ingresso troverete dei tablet anche con la lingua italiana che vi percorrerà vi vi condurranno in questo percorso che racconta la storia di questa grande artista ma soprattutto di questa grande icona del pop americano lui era un tipino come sapete molto kitsch queste sono le le tombe e questi sono gli ambienti interni vedete che il kitsch è perlomeno un eufemismo la sua akadiyak e poi i locali di bill street a memphis questo è il king club ecco per farvi capire parlando di mostri sacri della rock and blues bb king è forse uno dei primi tre e qui è ancora il suo locale lui è morto questo è un altro locale e poi ci muoviamo verso sud e andremo a percorrere la highway 61 blues trail vedete questi cartelli blu saranno connoteranno tutto il vostro percorso questo è un juke point è un juke joint scusatemi questa baracca di legno perché agli inizi della storia americana in quegli anni lì in cui parte la musica nera i neri possono esibirsi solo in locali di neri e quindi si esibiscono in queste baracche che costellano tutto il nostro percorso ce ne sono ancora tante e che vi vengono raccontate da questi cartelli blu è la highway 61 e andiamo a vedere che cosa vedete questo è quello di cui stiamo parlando e questo è il territorio che andremo ad incontrare fino alle zone umide del delta del mississippi quindi campi di cotone fioriti o non fioriti e questa america molto molto lenta molto molto anche però cordiale assolutamente con un'attenzione all'altro molto molto importante la route 61 è musica everywhere questo è un barbershop questo è un è un diciamo un parrucchiere in cui naturalmente c'è un angolino e due ragazzi otti suonano il blues la prima tappa dopo memphis 120 chilometri clarksdale questo mulare si ricorda la intanto qui ci sono ancora una volta degli studios di recording studios famosissimi ma forse la leggenda che poi ha dato un po il via al tutto è questa di questo artista blues degli anni 30 che si dice abbia fatto abbia fatto un accordo con il diavolo per diventare il più grande artista blues della storia e c'è ancora l'angolo c'è ancora il l'incrocio che ricorda appunto questo patto fatto da questo artista degli anni 30 di cui purtroppo non ricordo il nome qualcuno di voi magari lo saprà ecco fermarsi a clarksdale vuol dire appunto entrare profondamente in questa idea e anche sentire della buona musica il ground zero che è il locale di morgar freeman lui solitamente il mercoledì o il giovedì è presente in base agli impegni che ha ma spesso e volentieri lo si vede sul parco insieme alle band che poi quella sera suonano nel suo locale questo è il ground zero visto dall'interno vedete molto spartano molto vissuto molto local ed è forse la sua bellezza la tappa successiva indianola indianola è un lungo il mississippi blues trail la ricordo perché la città natale di bb king dove c'è il suo museo ed è qui un altro stretta connessione per suo volere tra la sua musica e le battaglie dei diritti civili anche perché questa latitudine e ve lo cito solo si può piegare non raggiungere new orleans ma si può piegare verso l'alabama ok dove nel 2016 è stato inaugurato il civil trail civil rights trail cioè quella strada che ripercorre le tappe fondamentali della storia dei diritti civili e di martin luther king che è nato ad atlanta in georgia ma che ha predicato vissuto tra birmingham e montgomery e lì troviamo selma bridge e peters bridge cioè tutti quei ponti che hanno visto quelle marce negli anni 60 anche costellate di numerose vittime ma noi procediamo verso sud indianola bb king museum questo è il club ebony ve lo racconta il cartello blu e entriamo nel profondo profondissimo sud qui siamo nel mississippi e le località di cui stiamo parlando sono nacez e vicksburg ok subito per darvi un'immagine cinematografica qui entriamo in un ambiente da via col vento ok siamo in epoca in completo stile vittoriano a me piace fermare la gente più a nacez che a vicksburg perché vicksburg può bastare non può bastare merito una visita perché è stato uno dei campi di battaglia più cruenti di tutta la guerra di successione e oggi ci sono ancora il battlefield e il museo che ricordano quell'epopea e quella tragica epopea direi ma nacez che è a breve distanza dalle rivi del mississippi è costellata da tutte queste casette vittoriane molte delle quali sono diventati dei piccoli hints per cui ad esempio se volete arricchire il vostro viaggio di nozze o anche un viaggio normale con una chicca sceglierei un bel ins di nacez 8 10 12 camere con la padrona vi fa la colazione lei molto molto particolari e molto intimi e in alcuni casi anche molto raffinati questo è il mississippi river lo stiamo costeggiando ormai da parecchi giorni e entriamo nel delta del mississippi e questo sarà un po' e qui passiamo a un clima decisamente subtropicale per cui sappiate che a luglio agosto c'è il 100 per cento di umidità e questo va detto ai clienti come del resto è risaputo che new orleans e tutto l'enorme territorio tra mississippi e louisiana è una zona umida molto 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 umida appunto e questo è cajun country quindi zone umide con una con una vegetazione di questo tipo da new orleans ci sono delle bellissime escursioni che vi portano con delle barchette a fondo piatto nel cuore dei bayou si chiamano bayou queste zone umide e quindi avrete la possibilità secondo me in un modo molto molto più bello ad esempio rispetto ad everglades di vedere flora e fauna in nell'ambiente che contraddistingue questo territorio sulla strada che da nacez mi conduce new orleans passando per baton rouge che è la capitale dello stato della louisiana avrò la possibilità di fermarvi in queste fantastiche plantation che erano le grandi tenuti le grandi tenute di epoca segregazionista quindi diciannovesimo secolo dove c'era solitamente la mansion dei proprietari e poi tutte le barracks e quindi il villaggio dei lavoratori per usare un eufemismo eh neri e di colore che poi erano schiavi ed era la forza lavoro di queste grandi tenute questa è probabilmente la più famosa o call in plantation è connotata da questo magnifico ingresso con queste piante ultra centenarie vi cito anche invece l'ora plantation che secondo me sono lì molto vicine che secondo me è molto autentica perché oltre alla mansion dei proprietari sono rimaste ancora buona parte o alcune delle barracks eh dei lavoratori di colore e arriviamo new orleans la conoscete la conoscete post catrina inutile che ritorniamo su un evento del 95 è completamente una nuova città ha riconquistato alla città anche altri quartieri che prima erano un po difficili da frequentare quindi non si parla più di french quarter ma si parla di riverside quindi lungo il fiume lungo il delta di eh garden district e vi devo dire che chi dorme dentro il french quarter deve essere pronto ad essere disturbato dalla musica che va avanti fino alle 4 del mattino eh non sempre non tutte le sere ma è una costante quindi ad esempio io faccio sempre la domanda e se è una famiglia tendenzialmente che ne so cerco un albergo nel garden district che poi alla fine è dieci minuti un quarto d'ora a piedi dal french quarter new orleans il cuore del french quarter è barbon street quindi tre strade eh che abbiamo ricordato in questo viaggio broadway nashville bill memphis barbon eh new orleans io invito sempre a frequentare anche le due strade a sinistra e le due strade a destra faccio sempre l'esempio della chinatown di san francisco ok dove tendenzialmente noi frequentiamo solo quella le norme via commerciale quella con i dragoni rossi e invece due strade a nord e due strade soprattutto due strade a nord ti sembra di essere veramente in cina che non parlano neanche l'americano neanche l'inglese quindi eh anche qui un po di curiosità senza mettersi nei pasticci senza andare poi nei quartieri più periferici ma andare oltre le solite icone turistiche questo è il monte leone un edificio storico un albergo che vendiamo molto bene ancora per i viaggi di nozze per chi vuole rimanere nel cuore del french quarter avere un po questo flair eh antico possiamo dirlo antico anche perché le camere poi sono un ciccinino antiche e il monte fa sempre la sua figura i cortili interni di new orleans sono famosissimi eh ne incontrerete a dozzine a decine e quindi un dentro e fuori e qua siamo in una cucina molto interessante perché ci sono i gamberi perché siamo nel delta del mississippi quindi è un territorio estremamente spescoso soprattutto di molluschi e di crostacei quindi sarà una bella cosa poi magari chiedetegli di non metterci le salse così le mangiate ancora la cucina e questo influenza che di cui vi parlavo 300 anni francesi poi la popolazione afroamericana poi gli inglesi ognuno ha portato un piccolo contributo e oggi si parla esattamente di una cucina tipica cajun che è solo di queste latitudini prima di andarvene passate un caffè e un beignet olé al caffè du monde anche questa è un'icona della città vale sempre la visita e con questo vi ringrazio è stato veloce sono stato anche nei tempi eh vi ho imbottito di informazioni la mia volontà poi era alla fine quella di ho disattivato l'audio la mia volontà era poi quella di di farvi un escursus rapido aspettate che adesso cerco di aprire la la questione delle domande così se avete qualche domanda mi eh mi fate pure le domande che volete che abbiamo ancora cinque minuti sulla tabella un attimo solo gentilmente ok eccola qua va bene allora sono mi sentite ancora spero perché non ho ritorno eh chiaramente ehm vi 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 lascio qualche minuto per le domande se desiderate e qua ce n'è già uno una eh esistono viaggi in moto certo noi lavoriamo con Igor Rider eh e quindi il noleggio moto assolutamente fattibile e se non ricordo male mentre sono sicuro per la west coast ci sono anche delle partenze accompagnate in moto ma questo vorrei riconfermarvelo perché qualche partenza Igor Rider di gruppo ce l'abbiamo ma non mi ricordo più se fa anche questo tratto di territorio americano tuttavia i moto alla grande altre domande quello che abbiamo visto è disponibile solo di individuale anche o in gruppo non è un itinerario su cui i supplier donna americani e mettono partenze di gruppo no non ci sono partenze di gruppo perché non non riescono poi a concretizzare state vedendo che stanno sparendo praticamente anche dalla Florida il tasso di conversione per anni è stato basso e quindi sempre più attori del turismo americano parlo di incoming hanno smesso di fare partenze garantite su questi itinerari altre domande va bene non mi sembra che ci siano altre domande io come sempre comincio a ringraziarvi per avervi ascoltato e sapete dove trovarmi scrivete sentiteci che ci stiamo applicando e portateci fuori un po questi territori questi discorsi innovativi perché come dico sempre magari gli parlate del travel south fate capire la vostra profondità e poi magari lo rimandano un anno dopo ma quest'anno fanno solo New York più Aruba ma alla fine non si alzano più da quella sedia sicuramente su questo non c'è ombra di dubbio grazie a voi tutti buon pomeriggio buona fine settimana e a presto grazie 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 grazie